Vai Fede, vai! Adesso inizia la salita! Adesso inizia le salite dure! Hai solo tre minuti! A Milano Sanremo, 299 km, la corsa più lunga di tutte! Chissà se un giorno anch'io potrò correrla. Ma che di correrla? Noi andiamo a vincerla! Federico è più portato per lo studio che per il ciclismo. È vero? Tu piuttosto, perché hai scelto di venire a lavorare qui? Io ho bisogno di comprarmi una bici nuova per partecipare alle selezioni. Se c'è bisogno di una bici, chiedila pure a me. Te la presto io. Così vediamo chi è il migliore. Questo è il massimo che ho potuto fare. Però potete stare qui tutto il tempo che vorrete. Ridi, ridi, che tanto la gara non la fai con me ma con Fede. E poi vediamo se riderei ancora, eh! Federico, ma dove vai con questa bicicletta? Cos'è? Oggi non ridi? Chiunque sarà il vincitore. Oggi abbiamo un nuovo nome nel ciclismo delle tantisti copiemontese. Per non venire in negozio e per non allenarsi vuol dire che è successo qualcosa. Potevi robarci tutto, ma non possiamo permettere a nessuno di robare i sogni di un ragazzo.